Chiude a Lucignano, in provincia di Arezzo, lo screening a tappeto della popolazione nell'ambito della campagna regionale Territori Sicuri, dopo i molti casi di Covid rilevati nei giorni scorsi, soprattutto tra i giovani di questo territorio. Un modo per individuare eventuali casi asintomatici di Covid e tracciare i contatti stretti. Presente il presidente della regione toscana Eugenio Gianni e la sindaca di Lucignano, Roberta Cassini. Lucignano è uno dei comuni dove, in considerazione del numero dei contagi, le scuole saranno chiuse fino al 15 marzo. Lo stop era partito però già una settimana fa, dopo la scoperta di un focolaio di Covid dalle medie. Ci sono due comuni qui, che sono Lucignano e Marciano della Chiana, che sono contigue, che nell'elenco dei 76 comuni con più di 250 contagi su 100.000 abitanti erano appunto fra i comuni più colpiti in Toscana. Per questo ecco Toscana Sicura. Però con 25.000 tamponi al giorno, perché anche oggi abbiamo 1.355 contagi, ma abbiamo 25.000 tamponi, anche i dati dei contagi devono essere fatti, visti alla luce, che negli ultimi 15 giorni noi abbiamo avuto, nell'anno della pandemia, il record assoluto di tamponi. Il presidente Gianni prevede una situazione critica per un altro mese, poi grazie ai vaccini e al tracciamento dei contatti la curva dovrebbe cominciare a scendere. Quindi se superiamo questi 20 giorni, mese, saliranno i vaccini e un po' il tempo ci aiuta. Quindi spero proprio che vi sia grande senso e responsabilità nella popolazione in queste 4-5 settimane. Nei prossimi giorni la campagna territori sicuri farà tappa a Bientina, in provincia di Pisa, a Cantagallo, nel Pratese e a Castelnuovo, Berardenga, in provincia di Siena.